Ciao ragazzi, sono Guglielmo della Google Tech e oggi parleremo del montaggio del nostro ultimo filtro aria, il Rally Raid Ultra per le Honda Africa Twin RD 03 e 04, quindi le prime versioni 650 e 750 e il motore Transalp 600 di quegli anni. Quindi, noi abbiamo voluto creare di nuovo un filtro nato per girare il mondo e sopportare le peggiori condizioni di sabbia, polvere, anche enduro professionale, piuttosto che anche gare. Ci sono tantissime persone che ancora usano questa moto per girare il mondo e ne hanno ben donde e quindi abbiamo cercato di fare un prodotto superiore. Il filtro originale, tutto lo sapete, è una flangetta incorporata sul filtro in carta che presenta tra l'altro una particolarità. È abbastanza delicato e collassa in caso di eccessi di polvere, perché fondamentalmente come l'aspirazione prende da dietro la ruota, scusate, sotto il fianchetto sopra la ruota, è possibile che ci sia un carico di polvere importante. Il filtro originale non ce la fa. Carica troppo, si sfonda e fondamentalmente è molto rischioso. Abbiamo cercato di rispettare quelle che sono le dimensioni per migliorare l'erogazione in termini di coppia e di fluidità motore, mantenendo le stesse dimensioni del filtro ovviamente. La differenza? Beh, il nostro non è una cartuccia, è lavabile perché è la membrana Matrix Ultra 4, Rally Raid. Il fatto che sia una cartuccia permette di portarlo con voi e di maneggiarlo in maniera molto più semplice ed è anche molto più robusto. Il lamierino è leggermente delicato, alla seconda o terza volta se lo mettete mai in una borsa si piega e poi non è più utilizzabile. Da noi invece riceverete nel pacchetto una piastra in alluminio tagliata al laser, molto più robusta ed affidabile. E monterete semplicemente il filtro inserendolo all'interno e schiacciandolo sulla guarnizione. Nel pacchetto cosa avete? Riceverete il filtro ovviamente a secco, la piastra con il nostro bellissimo logo pretagliata al laser, una guarnizione adesima in neoprene che dovete performare e incollare dietro la piastra, nella porzione quella che andrà a contatto con il filtro, e le viti inox per permettere un montaggio non utilizzando le viti originali che sono troppo corte. La preparazione di questa piastra per arrivare fondamentalmente a questa situazione dove l'inoprene è stato già pre-incollato è molto semplice. La porzione senza logo andrà con del banale alcol pulita, pezzo di carta e un po' di alcol per togliere l'eventuale grasso, residui oleosi che non permetterebbero un corretto incollaggio. Si posiziona la guarnizione adenoprene, la si ritaglia, forbice taglione, fate voi, è facilissimo, e si ottiene più o meno, sono convinto che lo farete meglio di me, una sezione del genere, una piastra con la guarnizione pre-incollata. Fatto questo, il filtro presenta una guarnizione molto più alta e molto più robusta dell'originale. L'originale presenta una spugnetta molto delicata che dovrebbe schiacciare il labbro interno che è qui, che fa la tenuta del filtro, e per mettere la perfetta tenuta del filtro verso la scatola filtro. La nostra guarnizione è più alta e molto più robusta, quindi garantirà nel tempo una maggior tenuta. Anche perché, ricordatevi, questo filtro è facilmente lavabile. Lo immergete nell'acqua, così com'è, un po' di sapone, fate entrare l'acqua da qui e farlo uscire al contrario, lo soffiate ed è pronto a l'utilizzo. Se voleste usarlo per fare enduro, fuoristrada, gira fuori porta, magari dove c'è della polvere, vi consigliamo di oliarlo. Come sapete, noi consigliamo gli oli derivati per le competizioni, quindi o con uno spruzzino o con uno spray potete proteggere il vostro filtro e creare la miglior barriera al mondo contro polvere e sabbia. Andiamo a montarlo. La scatola filtro più o meno la posizione è questa. Ora da sola sta su ed è un miracolo. Cosa facciamo? Posizioniamo il filtro all'interno, lo centriamo contro la guarnizione, dopodiché utilizzeremo la piastra per tenerlo saldo e semplicemente inseriremo le viti andando ad accoppiarle in maniera graduale, un po' come se stesse stringendo un carter. Questo cosa permetterà? Permetterà la perfetta chiusura della guarnizione e ovviamente un coerente schiacciamento della stessa, quindi avrete un'omogenea chiusura della scatola. Ricordatevi una cosa, questa porzione del filtro è quella che è aperta all'aria, quindi anche se non doveste correttamente centrare la guarnizione non è un problema. Ma la cosa importante è che il filtro spinga la parte interna, tutta questa parte qui è sporca, quindi se anche qui non vi dovesse essere, doveste pensare che non c'è la perfetta chiusura, cosa che non avviene perché la guarnizione copre totalmente la superficie mentre schiaccia il filtro, questa cosa non è un problema perché è la porzione sporca della scatola. Come vedete mentre parlavo ho chiuso le tre viti, la scatola è stata chiusa, il filtro è perfettamente spinto con la guarnizione contro il labbro di tenuta. Non esagerate a stringere, è gomma, è neoprene, non c'è bisogno che vada tenuta, non è una questione di schiacciamento. Una volta che avete ottenuto questa chiusura e vedrete che le viti sono praticamente a pari, avete già ottenuto il vostro scopo. Scopo. La gomma permetterà una pressione verso la vite che eviterà lo svitamento per vibrazioni. Montato, è bellissimo, è fantastico. Con questo avete ottenuto la perfetta protezione del vostro motore, una manutenzione facilissima, molto economica, un parziale, non vi voglio mentire, questo motore ha già molta coppia, quindi non si può migliorare ciò che è già buono, ma ci sarà un maggior flusso e quindi una migliore apertura del motore. Non abbiamo aumentato il volume di aria perché noi vogliamo preservare l'integrità e l'erogazione di questo motore. Noi siamo la Google Tech, se vi piacciono i nostri prodotti, se vi è piaciuto il video, metteteci un like, iscrivetevi al nostro canale e seguiteci perché ci saranno sempre altre novità e tanti bei prodotti per le vostre motociclette. Grazie.